Innamorata senza te, perché mai? Non sei qui, non sei più accanto a me, tu mi dicevi piano non lasciarmi mai. Maria, Maria, che ne sarà di noi? Amore grande dove sei, anche se... Non lo sai, tu esisti dentro a me, sulla mia pelle resta ancora un po' di te. Ricordo e poi, quanta malinconia. Un'altra vita senza te, un'altra storia senza te. Non la potrò vivere mai, ti cercherò, lo sai. Passioni grandi più di noi, silenzi grandi fra di noi, per ritrovarti ovunque sei. Io camminerò, per ritrovarti piangerò, griderò, anche se nessuno ascolterà. Maria, con il pianto in gola, grido al vento in nome mio. Maria, Maria, e tu mi senterai, e un giorno tornerai da me. Quanto tempo, Maria, innamorata senza te. Io sto per morire, Maria. No, mamma. Sono sicura che starai meglio. Io non voglio neppure pensare che tu possa lasciarci. Devi dire a tua sorella, Tonietta, che io muoio con il dispiacere di non averla rivista e dire anche che deve cambiare vita, ma soprattutto deve occuparsi della sua bambina. Oh, mio Dio, mi dispiace tanto dover lasciare voi due in queste condizioni. No, mamma. No, mamma. Ascolta, Maria. Ascolta. Cerca, cerca bene tra le mie carte. Dovresti trovare una vecchia lettera. C'è scritto l'indirizzo di Mariana. Io ti ho già parlato di Mariana. Cercala a Buenos Aires. Molto tempo fa noi eravamo legate con le due sorelle. Lei è molto ricca. E io sono sicura che sarà felice di aiutarti. Io farò quello che tu mi hai detto, mamma. Però tu devi venire con noi e poi lo sai. No, so che ti dispiace tanto, ma io non posso muovermi, credimi. Mi sento molto debole. Io non ti lascerò qui, mamma. Quel signore che hai incontrato non ti ha detto che sarebbe venuto con un dottore? Sì. E allora dov'è? Perché non viene? Non lo so, Rosa. Maria, ti prego. Va a cercare il nostro parroco. No. Mamma, perché? Non voglio morire senza confessarmi e senza farla comunione. Va a chiamarlo, Maria. Per favore. Mamma, no. Mamma, ti prego di perdonarmi. Se ti lascio così, nelle tue condizioni, tu non sei in grado di amare a te stessa. Mamma. Maria, ti prego. Occupati di tua sorella. Ma solo te adesso. Mamma. Deve perdonarmi anche tu. Se lascio un peso così grande sopra le tue spalle. No, mamma. Non preoccuparti. Io per la famiglia farei qualsiasi cosa. Vedrai che tutto andrà bene. Ti do la medicina. No, 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 Maria. No. È che Maria è il nostro parroco. Portalo qui. No, non voglio lasciarti sola, mamma. Non voglio lasciarti. Mamma, ora vado a chiamarlo. Non voglio morire senza confessione. Sì, mamma. Rosa, devo fare quello che la mamma mi ha chiesto. Vado a cercare il nostro parroco. Padre Simón. Padre Simón. Padre Simón. Che cosa c'è, Maria? Che cosa è successo? Su, calmati, figliola. Ma cosa ti è successo? Dimmelo. Mia madre sta per morire, padre. Dimmi che cosa c'è. Padre, venga con me, lo prego. Mia madre muore. Sì, andiamo subito adesso. Ma non preoccuparti. Può darsi che non sia niente di grave. Su, calmati, figliola. Calmati, calmati. Adesso calmati. Sì? Sì, sì, lei sta parlando con Juan Montico. Sì, certamente. Questo è l'ufficio di Abel Linares. Sì, certo. Non la sento. Parli un po' più forte, per favore. Non la sento. Che cosa ha detto? Sì, ma da dove? È la polizia. Ma dove? Ma com'è successo l'incidente? Dove si trova adesso? Lei lo sa? Lo stanno cercando? Ha bisogno di un elicottero? Sì, glielo chiedo, signore. Perché potrei mandargli uno subito. Sì, va bene. Sì, sono un suo amico e anche il suo socio. Lei è molto gentile. Grazie per aver chiamato. Arrivederci. No, non è possibile. Non è possibile, no. Deve essere vivo, deve essere ancora vivo. Non può essere morto. Ciao, Juan. Oh, ciao, Luigi. Come stai? Quando sei tornato? Sono rientrato ieri. Senti, Juan. Dovrei fare una chiamata da qui via radio. Ho bisogno di parlare con mio padre, non so come... Aspetta, Luigi. Mi ha appena telefonato la polizia. La polizia, perché? Ecco, è successo un incidente. Papà? No, no, no. Si tratta di tuo zio Abel. Pare che la sua macchina abbia preso fuoco. Ma è morto. Dottore, ho bisogno che lei venga con me. Vede, ho promesso a quella ragazza che l'avrei aiutata. Sua madre sta morendo, io vorrei che lei la visitasse al più presto. Ci andrò da solo. Ora lei deve mettersi a letto e riposare. Non la prenda, la leggera. Lei ha perso molto sangue. No, adesso mi sento meglio. Sì, ha ragione. Però tenga presente che... Soltanto io posso indicarle dove sta quella ragazza. Andiamo, dottore, la prego. D'accordo. Ma l'avverto che se dovesse star male, io non mi sentirò responsabile. Va bene. Non succederà niente. Andiamo. Grazie. Abel, ma dove vai? Suo fratello è molto testardo, signor Linares. Io l'aspetterò in macchina. Aspetta, che hai intenzione di fare? Ma dove vai? Vado ad aiutare quella ragazza che hai mandato via stanotte con tutta la sua famiglia. La madre di Maria Sarmiento sta morendo in mezzo ad una strada. Questo è Tony. Che lo controlli bene prima di mandarlo via, mi raccomando. D'accordo. Ciao. Oh, che sorpresa vederti. Come stai? Benissimo. È successo qualcosa? Sì. Senti, Barbara. C'è stato un incidente. Che cosa? Si tratta... di Abel. Abel? Quando? Non lo so. Credo che sia successo ieri sera tardi. Vedi, qualche ora fa mi ha telefonato in ufficio alla polizia. Ma dov'è adesso, Abel? L'hai ferito gravamente? Non lo sanno, non lo sanno. Questo è tutto quello che mi hanno detto. La macchina si è rovesciata e poi ha preso fuoco. Abel non si trova. Juan! Come può essere successo? Come? Ecco, hanno detto che... che pioveva molto in quel momento. Deve essere stato questo. E lo stanno cercando? Certo, Barbara. Cerca di non perdere la calma. Adesso ti prego. Sì, ma sarà pure da qualche parte, Juan. Perché non può essere morto, no? Abel non può essere morto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Sanza Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sede di Cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. così in Cielo, come in terra, baci oggi il nostro pane per te. Ti metti a noi, la sua dente, come noi ti rimettiamo ai nostri domitoli e non ci indurre in tentazione, ma libera su dal male. Amen. La grega mi riposa. Buona l'ora, Signore. Ti splenda in essi la luce perpetua e riposa la mia pace. Il nome del Padre, del Friare e degli Aspiti Santi. Signora Bell. Dov'è mio fratello? Non lo so. Com'è possibile che tu non lo sappia? Tu sei sempre al corrente di tutto. Non è esatto. Io so quasi tutto, non proprio tutto. Suo fratello entra ed esce quando vuole e non dice dove va. E Jacopo non fa domande. Il padrone è lui, non io. Voglio sapere dove posso trovare quella ragazza che è stata cacciata da qui stanotte. Quale ragazza? No, andiamo, Jacopo. Non fare il finto tonto, tu lo sei bene. Si chiama Maria Sarmiento ed è stata mandata via con tutta la sua famiglia. Devi dirmi dove posso trovarla. E che cosa vuole che ne sappia io? Ci saranno rifugiate da qualche parte, ma chissà dove. Sei stato tu a cacciarla. È vero, sì. Ma come puoi essere così cinico da compiere un gesto del genere? Io non ho fatto altro che eseguire un ordine di suo fratello, signori. Ah, sì? Però qualcuno mi ha detto che tu la importunavi, la assillavi. E certo non con delle buone intenzioni. Lei crede a tutto quello che le dicono? La gente che sta in questo paese non fa altro che criticare. Sono tutti dei pettegoli. Ma se vengo a sapere che tu l'hai fatto... Mettiamo subito in chiaro una cosa, signor Linares. Lei è il fratello del padrone, io la rispetto. In fin dei conti, io sono soltanto un dipendente qui. Ma chi comanda all'Osaibos è suo fratello. E io non ho altro padrone a cui uguidire se non lui. E quindi, per favore, signor Linares, noi manteniamo le distanze. Sei una serbe. Come faccio a non essere nervosa, mamma? È il mio fidanzato. Ma sì, Barbara, ti capisco. Ma perché devi essere così pessimista? Perché Abel dovrebbe essere morto? e in questi casi non bisogna pensare al peggio. Juan? Sì? Vorrei andare all'Osaibos. Puoi accompagnarmi? Certo, andiamoci subito. A quest'ora. Non mi pare il caso, Barbara. Dai, mamma. Ho deciso di andarci, mamma. E se Juan non viene, ci andrò da su. Andiamo. Aspetta un momento. Pronto? Chi è? Chi è? Abel. Ma da dove chiami? Sì, mi ha avvertito la polizia. Passamelo. Aspetta, è qui com'è. Pronto? Pronto, amore mio. Sì, sono io. Sono morta di angoscia quando ho saputo del tuo incidente. Ah, è che per un momento ho creduto di averti perso, Abel. Ti amo. Ti amo. Senti, Luigi. Se tuo zio ha avuto un grave incidente, tu dovresti stargli vicino. Sì, mamma. Non mi piace che tu esageri sempre le cose. Se Abel fosse ferito o morto, Italo ci avrebbe sicuramente avvertito in qualche modo. Ci avrebbe comunque telefonato. Certe volte io non riesco a capirla, Martina. Ma non le importa proprio niente di suo figlio. Sarebbe tanto tranquilla se si trattasse di Italo. Basta, Giuseppina. Non ti permetto di fare certe insinuazioni. Non essere insolente e sconsiderata. Insomma, smettetela. Per favore, non mettetevi a litigare adesso. E in questo momento la cosa più importante è zio Abel. Ti accompagno alla fattoria. Nessuno si muoverà di qui. Non è a causa di Abel che vuoi andare là. Vuoi andare all'Oceibos per vedere se Italo è con un'altra donna. No, no, non dica sciocchezze. Non pensavo niente del genere. Italo chiamerà. Come madre mi addolora pensare che... che possa essere successo qualcosa da bello. Però non mi piace drammatizzare né pensare cose che non sono vere né fare gesti affrettati. Dobbiamo aspettare. Aspettare? Aspettare cosa? Che lo ritrovi in amorto? Basta, Giuseppina. Non possiamo fare altro che aspettare. e poi non dimenticarti che in questa casa le decisioni le prendo io. e poi non ci sono Brava, brava, sei bravissima Brava, amore mio, sei splendida, Santi Perché non vieni un po' con me che ti faccio divertire, eh? Forse più tardi, carino, più tardi E ogni giorno più innamorato, bello Io credo che sia ogni giorno più cretino Dammi da bere avanti Che cos'hai, Antonieta? Oh, che sono stanca Dammi da bere, ti ho detto Facci piano E fai in fretta Va bene, va bene Bevi troppo Antonietta Maria Che ci fai qui? Ma sei diventata pazza a venire in un posto come questo, eh? Una ragazza come te non deve neanche metterci piede Su, vattene Ma che ti è preso, Maria? Ma che succede? Insomma, vuoi dirmi che cosa ha? La mamma La mamma è morta, Antonietta Quando? Quando? Oggi Oggi pomeriggio Lei stava lì Per terra In mezzo alla strada Ha sofferto tanto, Antonietta Povera mamma Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace tanto Ora che lei è morta Noi siamo sole Siamo rimaste sole Pronto? Sì Sono io, Barbara E che cosa ti ha detto? Quando ti hai chiamato? No, no, no A noi no Ti ringrazio Molto gentile da parte tua Arrivederci, cara Abel ha telefonato pochi minuti fa A Barbara Per prima cosa Avrebbe dovuto telefonare a casa sua A sua madre E invece no Lo capisci ora? Non è che io voglia più bene a Italo Ma lui ha sempre avuto la massima considerazione E il massimo rispetto per me Che Abel non ha Italo è il suo preferito Di Abel non le importa assolutamente niente Dai mamma, ti prego Non è giusto che tu dica così È la verità Ti assicuro che per tua nonna Esiste soltanto tuo padre Abel non conta proprio niente Può darsi che papà le stia un po' più vicino Questo è tutto Mamma Che succede con papà ultimamente? Sei sempre così ostiosa E sei sempre più lontana da lui La gelosia non può portare niente di buono E l'infedeltà tanto meno Tuo padre È un buon maiolo e un tiranno Forse non l'ho mai amata E ha distrutto la mia vita Mamma, tu non stai bene Io ti vedo molto, molto nervosa Molto tesa Non puoi continuare così Sì, Luigi, sì Sono malata Ma nell'anno Italo ha calpestato la mia dignità Lui se mi infischia dei miei sentimenti Ah, Luigi Mi sento tanto abilita Non so più che cosa fare Che ci fai tu qua? Non lo vedi? Ti sto aspettando Sei andata via senza salutarmi E questo a me non piace Non è gentile? Sì, va bene, scusami Ma quando mi sono svegliata Mi sono sentita un'estranea E quindi ho preferito andarmene E poi tu stavi dormendo Per questo non ti ho salutato Sai una cosa? Ho voglia di stare con te adesso Non posso, devo uscire Ho detto che voglio stare con te Non hai sentito? Un Linans sta dicendo ad una ragazza Che gli piace molto E questo non capita a tutte le donne Tantomeno ad una ragazza del tuo genere Vieni qui No, no ti prego No, per favore, per favore Per favore Mia madre è morta Devo andare, capisci? Ti chiedo scusa Devo cambiarmi e uscire subito Sì, sì Sì, certo fai pure quello che devi Forse domani tornerò a Buenos Aires Che ti ho fatto, mamma? Che ti ho fatto? Ho distrutto Ho distrutto la tua vita Potrai mai perdonarmi? Mi potrai perdonare, mamma? Antoniette dovrebbe già essere qui Arriverà Me lo ha promesso Deve venire al funerale della mamma Lei voleva bene a nostra madre a modo suo E non permetterà che noi la sotterriamo Senza che prima lei l'abbia vista Almeno spero che sia così, Rosa Non mi piacerebbe portarla a rancore per questo Però se nostra sorella non viene a vegliare la mamma con noi Io non gliela perdonerò mai Stammi a sentire È bene che tu sappia che su queste faccende Io non devo dare spiegazioni a nessuno Sì, sì, lo so Ma io non posso restare indifferente di fronte a cose del genere Ieri tu hai buttato in mezzo alla strada una famiglia di povera gente Con la madre che è malata Una ragazza che è cieca e una neonata Questa è una cosa assolutamente incomprensibile per me Poche ore dopo quella donna è morta e la responsabilità è tua Ma non ti rimorde la coscienza Non cercare di dare a me la responsabilità di quanto è successo Se quella donna è morta è perché doveva morire Senti, io qui faccio quello che mi conviene di più E non mi va che qualcuno venga a sindacare le mie decisioni Il nonno ha lasciato a me tutta la proprietà E ho intenzione di gestirla come meglio credo E non mi importa se questo urta la tua sensibilità Non so che cosa sei venuto a fare qui Non ti ho invitato Tu sei un sentimentale Un bambino Che non ha mai capito quanto coraggio occorre oggi per affrontare la vita Non ti permetto di criticarmi Non a casa mia Non nella mia proprietà Che io lo dico che stia zitto Quello che hai fatto un gesto assolutamente vergognoso Tu non riesci a capire Tu non riesci a capire Che cosa? I contadini sono persone brutali Ignoranti Non distinguono Credono che la buona fede E la gentilezza Siano stupidità Vanno trattati con il pugno di ferro e con una durezza estrema Se vuoi conservare la tua autorità mio caro fratello Un momento no Aspetta un momento Io non condivido Né i tuoi metodi Né il tuo punto di vista sulla questione Quella gente È gente buona È gente semplice Che ha bisogno di comprensione Ha bisogno di aiuto I tuoi metodi repressivi Non faranno altro che creare risentimento Ma l'umore e desiderio di vendetta Ascoltami Italo Non siamo più nel medioevo Tu lo credi? Ne sono convinto Va bene allora Parliamoci francamente Io qui faccio quello che mi va E me ne infischio delle tue chiacchiere Chiaro? E non voglio che tu vada in giro a parlare con la mia gente Non voglio che tu vada a cacciare il naso nei miei affari Non ti voglio nella mia proprietà Io non ti voglio più qui Eh? Ah fratello Non è una novità per me sentirti parlare così Ascoltami bene Tu hai le tue idee E io le mie E non sarai certo tu che potrai riuscire a farmi cambiare il mio modo di vivere Io sono un pragmatico Invece tu Un romantico Sei soltanto un sentimentale In questo non sembri affatto un linares lo sei Questa famiglia È stata composta Sempre Da uomini forti e di carattere E tu invece a volte sembri Soltanto un pusillanime davvero Può darsi Comunque sia Io preferisco essere un pacifista Sì sì io preferisco il dialogo alla violenza E sai perché? Perché so che Al gioco della guerra L'unico che vince è chi non partecipa O nel migliore dei casi Sì nel migliore dei casi Chi gioca con ragione e con pazienza Senti che strana parola mi è venuta in mente Pazienza Una parola che deriva da pace Va bene Va bene tu hai parlato dei linares Ma bene parliamo dei linares Quello che hai fatto cacciando via quella famiglia È stato un gesto indegno di un linares È stato un gesto da via Voglio che te ne vada dallo sei boss D'accordo Me ne andrò appena fa il giorno È meglio Potrei perdere la calma e restituirti quello schiaffo Che cosa stai dicendo imbecille? Altrimenti Scoprirai come sono fatto veramente Imbecille Entra Sì Qui vengo a riposarmi tra una lezione e l'altra È il mio rifugio Sì il mio rifugio E qualche volta rimango anche qui a dormire Ma entra Togliti la giacca Mettiti comodo Vuoi qualcosa da bere? Eh sì Questa è una buona idea Sei tu questa? Ah ah Allora Brindo al tuo rifugio No Brindiamo invece a questa notte indimenticabile Sono così contenta che siamo qui insieme Ah sì? Siediti Vuoi sapere una cosa qua? Sì Senti Oltre ad essere un uomo molto intelligente Sei anche affascinante E molto bello Senti Senti che? Non so Non so Credo che questo potrebbe essere un grosso sbaglio No ma no perché? Vuoi sapere qual è il problema? Che tu sei troppo serio Invece Io sono sicura che Dietro i tuoi occhi dolci Ci sia un vulcano Sì tu hai qualcosa che Ah ma perché non posi questo bicchierre? Dai a me Juan Sì Io ti desidero tanto Non rifiutarmi E non aver paura delle conseguenze Tu sei l'uomo che Che ho desiderato di più nella vita Ti amo Juan Le ho portato il caffè signore Grazie Juan Ma le pare Aspetta un momento Vieni qui Mi dica signore Sai qualcosa di quella ragazza Maria Che lavorava qui con sua madre Non sai per caso dove posso trovarla? Ah no 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 Non ne ho idea Non lo so davvero Ne sei sicura Juanita? Guarda che ho bisogno di parlare con lei Ecco quello che io so È che sua sorella maggiore Lavori in un locale di quelli Che sono aperti tutta la notte Giù in paese Però Beh io non so altro Forse Maria sarà andata dalla sorella E' molto buono il tuo caffè Grazie signore Lei è un uomo generoso Aiuti quella ragazza se le è possibile Non ha neanche un soldo poverina E purtroppo sua madre sta morendo Le faccia questa carità signore Ma si certo È quello che intendo fare Dio la ricompenserà per questa buona azione Ti ritroverò Maria Antonietta Nostra madre fino all'ultimo momento Ha desiderato che tu cambiassi vita Perché non lo fai? Io ho scelto la mia strada Maria E so dove voglio arrivare Comportati come una donna onesta Fallo almeno per la mamma Tu sta zitta Rosa Sei troppo giovane perché Vieni con noi a Buenos Aires Insieme ce la faremo Ne sono sicura Quella signora che conosceva la mamma E' molto ricca E ci aiuterà No io non verrò a Buenos Aires Per farlo dovrei avere qualche sicurezza A me non piace non sapere dove andare O che cosa fare Andateci voi Io non ne ho proprio nessuna voglia O forse non ne ho il coraggio E tua figlia? Resterà qui con te? No io non posso tenerla Il mio lavoro non me lo permette Ma come fai ad essere così? Non la vedi da quando è nata? E' la verità Su prendila in braccio Ma io non lo so come si tiene un bambino Ma dai Maria Attenta che ti cade Prendila solo un momento Stringila tra le braccia Buona, buona E' tua figlia Antoinette Su, su, sta buona tesoro Beh prendetela, prendetela voi Così almeno si calma Speriamo Lei non è abituata a me Io cercherò di Cercherò di venire Qualche volta a Buenos Aires E di portarvi un po' di soldi Eh sì Questa bambina adesso Adesso è più tua che mia Crescila bene Maria Sì Io la terrò come se fosse mia figlia Ma tu sei la madre vera E potrai rivederla quando vorrai No adesso è tua È solamente tu Beh adesso io devo andarmene Perché ho molte cose da fare Beh allora spero di vedervi presto E Beh sì Ciao Ciao Fate buon viaggio e iscrivetemi Io vi ringrazio Vi ringrazio tanto Per quello che fate per me E per la bambina Addio Io vi ringrazio tanto E per la bambina E per la bambina E per la bambina Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.